Uno spazio da restituire alla cittadinanza. E' questo l'obiettivo dell'Assemblea pubblica che si è svolta all'Infernetto per decidere la destinazione d'uso dell'ex chiesa di San Tommaso, da anni abbandonata. Ai presenti, radunati presso la Scuola dell'Infanzia Comunale, il Cucciolo, è stata consegnata una scheda su cui esprimere il proprio parere. Tante le idee in campo. Noi abbiamo lavorato in commissione, ci siamo chiesti che cosa ne vogliamo fare. E' venuto fuori un'idea di tutta la commissione, per cui parlo sia di maggioranza che opposizione. La commissione da me presieduta ha deciso di farlo dire, fare questo incontro, farlo dire alla cittadinanza che cosa ne vuole fare di questa struttura. Dopodiché, una volta che avremo tutte le risposte con una o più assemblee, riporteremo il tutto in commissione e in base a questo, poi decideremo la destinazione d'uso facendo i passi successivi. Per ora, secondo voi, qual è l'umore della cittadinanza? Che cosa stanno pensando? Allora, diverse cose. Qualcuno vorrebbe farci un centro per la sicurezza, tipo una caserma di Carabinieri, qualcun altro, un centro per l'Asne. Però io ho sentito anche, dopo la situazione di quel ragazzo, di Mattia Roberto, che purtroppo ha perso la vita. Gente che diceva, ma perché i ragazzi sono in giro, non sanno dove incontrarsi, eccetera, perché non pensare anche a un centro multigenerazionale? Fin dal 2013 ci sono atti, sia del municipio, comunali e regionali, per destinare una parte al presidio sanitario, solo che ad oggi noi stiamo proseguendo delle interlocuzioni con l'ASL e con il nuovo dirigente dell'ASL Roma 3, Quinta Valle, faremo a breve un nuovo sopralluogo per vedere se ancora c'è questa possibilità, se ancora è in piedi questa possibilità appunto del presidio sanitario. Diversamente, comunque, siamo qui per raccogliere idee e suggerimenti, proprio per vedere quello che potrà offrire come attrattiva, come luogo di incontro, di socializzazione. Idea è comunque un centro poligenerazionale che possa raccogliere tutte le età. Una cosa che manca sul quartiere, so, è un centro di aggregazione giovanile. Sinceramente, quello potrebbe essere una delle varie soluzioni, forse non la migliore, ma allo stato dei fatti, non essendoci in nessun posto, qualsiasi cosa è sempre meglio di niente, quindi comunque si può partire già da lì. Qui i giovani purtroppo non hanno spazi per potersi incontrare, discutere, anche crescere. Insomma, ad andare per la maggiore è la creazione di un polo multigenerazionale, un progetto che potrebbe dare un grande valore aggiunto a tutto il quartiere dell'Infernetto. Grazie.